L'unità operativa di broncologia interventistica vanta una storia di oltre 40 anni e un numero di procedure elevatissimo, oltre 50.000 e questa è la base, la piattaforma per un alto standard di qualità e anche di sicurezza. E sono stati proprio gli specialisti della pneumologia dell'Annunziata di Cusenza, i protagonisti del workshop dedicato all'endoscopia toracica che si è svolto a Rende. Il commissario Vitalano de Salazzara si è dimostrato molto sensibile al lavoro svolto silenziosamente da questa struttura, che però è un punto di riferimento regionale. In evidenza anche i benefici di questa metodica medica. Il beneficio pratico è eseguire un esame broncoscopico anziché un intervento chirurgico in piena regola in sala operatoria e con tutti i criteri. Un contributo al lavoro degli specialisti Cosentini arriva pure dalle nuove tecnologie. In particolare mi riferisco a un nuovo video ecobroncoscopio che sarà utilissimo soprattutto nella stadiazione del tumore del polmone, aiutando pertanto a fare una diagnosi precoce e quindi aiutando il paziente a poter risolvere le sue problematiche in maniera più efficace e tempestiva.